Adesso salutiamo il porto di Cetanova, ma Cetanova Marche solamente, facciamo tutto l'arco dell'inquadratura da nord, nord-ovest, sud-sud-ovest. Questo che vedete è il raggio del sole al tramonto. Adesso ci mettiamo verso ovest, in questo momento siamo a sud-sud-ovest, anzi, correggo, sud-sud-est, perché di là c'è l'Albania, Yugoslavia eccetera eccetera eccetera. Ecco abbiamo giusto.